Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto proiettori Cinemax 4 ottobre. Cinemax Gravity Series Universal 3D Shutter Glass SDL Peeling Quarks with all 3D Projectors ICIS Glass Contains a Liquid Crystal Layer Weeks The Properties of Becoming Opac when Voltage is Applied, Being Otherwise Transparent. The glasses are controlled by a timing signal that allows the glasses to alternate libloquan eie, and then the other, in synchronization with the refresh rate of the screen. To the wireless glasses will be easily connected to your device by pressing the SYNC button. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.